Sims e De Angeli, due aziende con problematiche lavorative importanti nel Valdarno Fiorentino, le cui vicissitudini approdano il Consiglio regionale, con una mozione di sostegno da parte di Valentina Vadi. Sarà discussa addirittura con priorità una mozione che ho presentato insieme ad altri due consiglieri della provincia di Firenze, Fiammetta Pirossi e Serena Spinelli, una mozione appunto per salvaguardare e tutelare due aziende del nostro territorio, la Sims e l'Ida, l'Istituto De Angeli. Il 27 di marzo le rappresentanze sindacali unitari hanno organizzato un'iniziativa pubblica al Teatro Excelsior di Reggello. In quell'occasione è stato fatto un appello alle istituzioni presenti, parlamentari, sindaci, consiglieri regionali, affinché si aderano ad operino per tutelare e difendere il lavoro all'interno di queste due aziende. Ecco numeri occupazionali e iniziative da prendere con questa mozione per salvaguardare i lavoratori. Alla Sims sono impiegati circa 130 lavoratori, all'Ida circa 300. Contando anche l'indotto si tratta di 500 famiglie che in questo momento vivono una fase di difficoltà e di criticità. Quello che abbiamo, come dire, sottolineato all'interno di questa mozione è la sollecitazione all'unità di crisi della Presidenza del Governatore Rossi, coadiuvata e coordinata da Gianfranco Simoncini affinché riapra il tavolo istituzionale per entrambe le aziende al quale far sedere le due proprietà in modo tale che queste possano assumersi degli impegni, delle responsabilità e delle garanzie per salvaguardare i posti di lavoro e per mettere in atto una strategia industriale che possa, come dire, traguardare un futuro certo e sicuro per queste famiglie e per tutto l'intero nostro Valtarno.